chiarissimi bentornati o ben ritrovati in questo nuovo video sono gennaro del canale youtube smart video fotografi e in due secondi vi spiego cosa troverete in questo canale se siete appassionati di fotografia video e realizzati contenuti con il vostro smartphone siete al posto giusto troverete un sacco di playlist spero utili per voi accessori consigli eccetera eccetera quindi se volete se vi fa piacere iscriviti al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche di video che posterò detto questo riparliamo come lavorare con il nostro sistema operativo ios ovviamente rivolto a ipad perché avete schermo più grande quindi è simile a un computer quindi si lavora molto meglio oggi andremo a vedere come gestire al meglio i nostri pdf vedremo due tre barra quattro cose adesso non mi ricordo più ovviamente il video che ho messo comunque vedremo cose interessanti per gestire al meglio dalla compilazione ovviamente nel nostro pdf all'unione eccetera eccetera quindi godetevi il video e mi raccomando fatene buon uso di queste funzioni benissimo andiamo a scaricare un pdf scaricherò uno preso a caso questa autocertificazione quindi andiamo a vedere come scaricarlo come scaricarlo ovviamente semplicissimo cliccare nell'iconetta di condivisione e poi ovviamente andarlo a mettere su file io ho già preparato una cartella quindi farò salva e il gioco è fatto a questo punto possiamo andare a switchare in file giunti in file apriamo il pdf e possiamo dare un'occhiata ovviamente a questo documento che è così a prima vista possiamo ovviamente copiare vedete se io seleziono il testo possiamo copiarlo la cosa bella che è stata aggiunta è proprio la compilazione una volta bisognava mandarsi le mail poi compilarlo tramite mail adesso c'è questo tastino magico qua vedete come io praticamente apro questo tasto mi viene praticamente proprio selezionato tutti i campi che sono in questo momento modificabili quindi io vado su questo ok centrandolo bene e scrivendo il mio nome ok vedete che a questo punto la cosa è molto molto semplice ok io posso andare a compilare il modulo praticamente senza nessun problema quindi ci posso mettere residente a si firenze magari genova vedete che praticamente è stato inserito questo adesso io cliccando il tasto destro posso leggere ok il mio ovviamente il mio testo invece cliccando lungo posso sempre andare a eliminare o praticamente leggere o selezionare tutto il mio i miei i miei campi quindi posso anche copiare ovviamente il mio testo che appena inserito un'altra cosa che è uscita diamo di nuovo è questo tasto più ok in questo questo in questo tasto troviamo questi elementi da poter utilizzare ovviamente come dire come una sorta di scorciatoio e se faccio più ok qua vedete che viene inserita una casella di testo ok una casella di testo praticamente che non c'entra nulla con il mio pdf quindi viene inserita una casella di testo dove vogliamo noi ok dove praticamente vogliamo capaia quindi è una cosa molto carina e poi alla fine se usciamo da questa funzione ovviamente vediamo che si spegne anche il più è possibile compilare in un'altra maniera questo pdf e diciamo avere un po più di libertà nel senso di andare sulla a e sotto vedete che vengono fuori tanti elementi 20 potete anche scrivere col mouse o potete scrivere con la apple pencil vedete che qua dentro i tre puntini infatti c'è questa opzione quindi possiamo anche disattivare scrivi con le dita perché sennò va a finire che poi pasticciate col mouse sullo schermo se vado a fare più invece vedete posso aggiungere anche qua una casella di testo ok praticamente separata da quello che ho fatto fino adesso se vado a fare più poi posso inserire anche una firma o un elemento che possa inserire anche un elemento tipo un quadrato un cerchio un fumetto se vado invece in fondo dove c'ho la firma avete dove ho la firma da mettere posso addirittura fare così più e inserire una firma la cosa brutta delle firme c'è la cosa bella che sono ovviamente scalabili dimensionabili ma la cosa brutta che una volta salvato il pdf la firma non è più modificabile cioè non posso più spostarla di posizione questo non lo so e quindi non so perché un'altra cosa che si può fare diciamo che è una cosa abbastanza simpatica secondo me aggiungere una lente di ingrandimento questo è per focalizzare ovviamente il diciamo il documento su una frase su qualcosa adesso non vi chiedete a cosa possa servire una lente di ingrandimento vedete ingrandisce ovviamente il mio testo e ovviamente ingrandisce si ingrandisce anche la lente se vogliamo sempre presa da questi diciamo da questi angolini che sono per ingrandire trascinare la nostra lente quindi vedete com'è facile e poi alla fine compilare un modulo ok in pdf possiamo ovviamente scrivere anche a mano libera però diciamo compilare un modulo ovviamente è sempre meglio battere a macchina diciamo quindi fine a questo punto vado qui vedete che ci sono tutti i miei elementi di nuovo disponibili ovviamente se vado qua posso avere di nuovo sotto controllo ovviamente il mio pdf che di nuovo ritrova ovviamente i campi che ho fatto oppure vado nella a e anche qui ho praticamente tutti gli elementi ok che ho messo che sono praticamente gestibili gestibili nel senso che posso ovviamente cancellare ok o spostare se vado su questo qua ok faccio un tasto lungo oppure tasto destro nel mouse se volete posso andare ovviamente a eliminare il mio elemento oppure spostarlo come ho detto prima posso ovviamente modificare anche il testo ok volendo cancellare anche qua è tutto duplicarlo ma non posso come vedremo andare a modificare la firma neanche cliccandoci due volte dentro oppure il tasto destro ok quindi non si può modificare la firma una volta inserita per tutti gli utilizzatori di page ovviamente è molto facile esportare un pdf oppure esportare il nostro documento in qualsiasi altro formato ma io ti mostrerò ora innanzitutto come andare a caricare un pdf esportarlo in cioè caricare un documento e andarlo esportare in pdf per poi unirli ok dopo con file una volta caricato clicchiamo sul nome ed esce fuori ovviamente questa tendina vado su esporta ok una volta selezionato ovviamente che vedete che ho questi ok modi ok di esportazione io ovviamente vado su pdf vado a scegliere la locazione sempre del mio file quindi vado qui su file e vado a scegliere la locazione del mio file sono già all'interno del cartella test quindi vado a fare salva e sono a posto vado a caricarne un'altra ovviamente perché se dobbiamo unire due file dobbiamo avere un altro pdf un altro pdf non so se lo stesso adesso ragazzi non so se ho preso lo stesso prendo questo vado a fare la stessa cosa esporta pdf e andiamo a salvarlo nella stessa locazione che ho messo ovviamente il mio file precedente se è uguale se ne accorgerà non è uguale possiamo anche prendere un terzo tanto per come dire sbulaccare un pochino e andare a unire tutti questi file per poi cosa fare vedere cosa come possiamo gestire ok a parte l'unione che fa la forza ma altre cose quindi ho esportato se andiamo adesso in file va bene non voglio modificarlo grazie se andiamo in file andiamo a vedere che ho esportato correttamente tutti i miei pdf come faccio ad unire ho fatto un suono che sembrava un codrillo comunque come faccio ad unire i file adesso 1 2 3 150 quelli che volete seleziona vado a selezionare i miei file che devo unire vado qui in altro crea pdf vedete che viene praticamente creato un nuovo pdf a questo punto io posso anche rinominarlo ok scrivendo qualcos'altro rinominarlo perché ovviamente non è quello che ho messo io documento unito ok l'ho chiamato documento unito andiamo a vedere se veramente è stato fatto il lavoro che ho detto vado dentro vedete siamo sono stati uniti i tre pdf a questo punto io posso ovviamente erano pdf infatti da due pagine da una pagina due pagine posso ovviamente andare a eliminare una pagina oppure posso ovviamente fare altre operazioni come copiarla ok e andarla a incollare nuovamente per duplicarla oppure ancora cliccando sopra posso eliminare ok la pagina che ho appena copiato oppure cliccando sopra posso fare ruotarla ovviamente se devo ruotare il mio documento posso inserire una pagina vuota vedete una pagina vuota posso ovviamente includere un'altra cosa da file cliccando qua sopra quindi vado a prendere un altro pdf praticamente posso prendere il modulo e viene integrato nel mio pdf che ho appena unito vedete ragazzi quanto è facile con ipad e aumentare il sistema operativo ios 16 ok in barba tutte le chiacchiere che si fanno senza ovviamente conoscere gli argomenti e questa è una cosa ovviamente non tanto carina quindi possiamo fare queste operazioni sono poco sono tante ok non ci lamentiamo posso anche fare un'altra cosa selezionare ok cliccare e selezionare scattare una foto ovviamente qua la scrivania è molto disordinata io scatto lo stesso e la vado a unire ora al mio posso anche dimensionarla se voglio ma vado a unirla ok vedete ho unito praticamente una foto proveniente dalla mia fotocamera ragazzi miei avete capito com'è facile produrre un pdf poi ovviamente una volta che lo posso spegnere posso chiudere riapro posso fare tutte le operazioni che prima mi erano concesse ovviamente duplicarlo cioè scusate modificarlo andare a scriverci qualcosa con la disegnarci oppure vabbè io ho questo programma qua che possiamo aprire ovviamente per modificare la grafica oppure andare a condividerlo se ho una stampante connessa a wires posso stampare eccetera eccetera quindi vedete quanto è facile poi alla fine conti modificare un pdf con il nostro sistema operativo iOS bene ragazzi avete visto com'è semplice con iOS 16 puoi manipolare e modificare ovviamente i nostri pdf dalla compilazione fino a ovviamente gestirne il contenuto ovviamente si può inserire anche scansioni immagini come abbiamo visto quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici per far sì che anche loro conoscano queste funzioni che non sono segrete ma sono utili sicuramente a tutti e per la produttività a questo punto vi rinvito a iscrivervi al canale se volete azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò e io vi rimando alla prossima puntata che riguarderà lavorare con il nostro carissimo iPad Ciao sono Gennaro creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo offro formazione anche online ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram Ciao a presto